Buonasera a tutti, ti aspettavo, a Manto ti annunciano le cose, qui invece è secco, diretto. Buonasera. Buonasera. Cosa facciamo qui? Parliamo, parliamo del tuo libro. Se non abbiamo argomenti migliori. Senza suscettibilità però, mi raccomando. Non so, io sono un po' suscettibile. Mi è stato detto. Invecchiando si peggiora. Mi è stato detto, mi è stato detto. Si suscettibilizza. Sì, abbastanza. Poi però è un tempo in cui ci si... Hai scelto abbastanza... L'ho fatto apposta. Ci si suscettibilizza molto rapidamente, credo. Molto rapidamente. Cioè, credo, non sono negata in matematica come in tutte le discipline, ma credo che ci sia una curva esponenziale. Mi sono laureato in architettura apposta per non fare matematica, praticamente. Allora, diciamo, questo spettro che si aggira intorno a noi, questa cosa dell'indignazione, dell'incazzatura facile, della suscettibilità. Però, è al centro di questo... Il tuo libro è questo, fondamentalmente. Tu ci passi attraverso in una maniera lucidissima. Io mi sono trovato tantissimo. Mi sono anche molto direttamente. Ma da quale parte? Degli offesi? No, no. Della sorpresa di questo eccesso di suscettibilità. Cioè, di riconoscere continuamente che la gente si cavola facilmente. Ma ti sei sorpreso perché vivi su Marte e non te ne riaccordo? Sì, più o meno. Sì, ma io ho questo effetto da lì c'è il paese di meraviglia. Cioè, come dire, ogni volta mi sorprende. Che meraviglia. Fogliana. Vero? Sì, abbastanza. Sì, sì, sì. Fogliana che agita le trecce, ce lo vedo bene. Vero, peccato che si stai perdendo tutti i capelli. Comunque, insomma, perché hai scritto questo libro? Oh, santa pace. Cominciamo subito a diretti. Non ho la più palida idea, non lo so, non sono preparata a questa domanda. Ho scritto questo libro perché continuavo a menarla con questa cosa che era l'era della suscettibilità. E in genere, quando tu parli ossessivamente di qualcosa, prima o poi arriva qualcuno che ti dice, vabbè, ho capito, però, o ne fai qualcosa oppure la smetti di stracciarci i maroni. No, perché, allora, l'era della suscettibilità, Guia, Soncini, Marsilio, è uscito pochi mesi fa. A me ha molto sorpreso, mi ha molto colpito perché mette insieme delle cose, come dire, poi ci sono alcuni capitoli in cui Guia, Soncini fa degli elenchi, che mi sono molto divertiti. Quindi, come dire, mette insieme dei fatti come se fossero, come dire, delle pietruzze da seguire lungo un percorso, che però messe insieme fanno un certo effetto. E dietro questa serie di elenchi poi tu sollevi dei temi, che sono anche dei temi preoccupanti, voglio dire, abbastanza interessanti. Secondo me lì ci sono due questioni. Una è la sintassi, che siccome io ho un problema di involuzione stilistica e si fa un po' fatica a seguire la mia prosa, allora ogni tanto tu metti degli elenchi, l'elenco è facile, no? E' tipo quando vai a fare ginnastica e ti fanno fare una serie più riposante perché sennò sei troppo affaticato. E l'altra questione è che certe cose funzionano per accumulo. E certo, assolutamente. C'è un capitolo in cui Luca Bizzarri dice che nessuno si ricorda l'indignazione del giorno prima, perché le indignazioni social hanno uno spettro di 24-36 ore. Esatto, la mortalità immediata delle persone. Poi arriva un altro che ne dice una più grossa e quindi andiamo a indignarci con lui e lasciamo stare a te che sei l'indignazione dell'altro ieri. E queste indignazioni che io a un certo punto ho messo in fila, le ho messe in fila perché io stessa, che le avevo salvate, le avevo messe da parte per due o tre anni, andando a vedere quelle più vecchie non me le ricordavo. E certo. Cioè veramente ci siamo indignati con Antonella Clerici per il pappagallo di Portobello, ma veramente sì, siamo così scemi. Ma è la somma interessante. Forse questo accumulo poi, da una parte, diventa un narcotizzante. Un po' come l'eccesso di dolore quando ti fai un tatuaggio che dopo un quarto d'ora non senti più il dolore perché vai in accumulo e quindi non ti accorgi più di quanto Maria Montante di queste cose ti travolga, no? Sì, poi secondo me come tutte le cose è una questione d'abitudine. È come alcune cose sempre caratteristiche dei social ma più innocue, tipo fotografare gli spaghetti che stai mangiando. Se tu vai a dire a uno di vent'anni fa che ha la macchina fotografica con il rullino che va portato a sviluppare, a stampare, adesso io fotografo quello che mangiamo, quello ti fa un TSO. Cioè, e invece poi diventa normale perché tutto, qualunque cosa diventa normale. È vero, sì, sì. Nella ripetizione. Sì, ma è la densità dell'accumulo che comincia a diventare preoccupante, no? Perché poi questo è un tema. Perché poi come la droga hai bisogno sempre più di alimentare l'emozione. Finché non muore di overdose. Non lo so se si muore di overdose di questa cosa. Una cosa che mi chiedevano sempre, adesso non so perché non me la chiedono più, mi chiedevano sempre appena uscito il libro, questa cosa finirà? E io non ne ho la più palida idea. A parte che se lo sapessi ci farei un sacco di soldi perché vedrai il futuro. Ma non so se da questa cosa si torni indietro a social esistenti. E d'altra parte non mi vedo molto Zuckerberg che domani dice ma sai che c'è io mi ritiro in campagna e chiudo tutto. No, anche no. Quindi non intravedo soluzioni. No, ma infatti non pensavo... Tu non me l'avevi chiesto perché mi sono andata a infilare in questa cosa. No, ma infatti non ho una visione assolutoria di questa cosa. Credo che si vada in accumulo costante, come dire. Quindi tutta questa montagna aumenterà e poi dopo troveremo degli altri modi. Forse a un certo punto tutti i capo ufficio diranno adesso però basta perché questa cosa vi porta via troppo tempo. Perché poi queste cose non avvengono mai. Se voi guardate i più zelanti giustizieri sociali che passano le loro giornate sui social a dire Tizio ha detto la cosa sbagliata e quindi va licenziato Caio ha avuto l'opinione sbagliata e quindi dobbiamo punirlo e dobbiamo boicottarlo improvvisamente ad agosto spariscono perché solo in orario d'ufficio si fanno queste cose. Per cui io se fossi il capo ufficio di uno di questi mi riterrei responsabile di questa pratica. Anche perché poi il capo ufficio esce dall'ufficio e comincia anche lui a... Ovviamente. Il problema è che il capo ufficio non se ne accorge perché è nel suo ufficio a indignarsi. Esattamente. Ma tra le tante cose che poi dopo mi sono preso anche degli appunti figurati ma tra le tante cose che mi... Ma c'è tutto uno schema. No, no, ma io sì, sì. Posso copiare? Sono un secchione, veramente. Ma a me interessa molto questo... C'è anche il mio nome qui perché aveva paura di confondermi con un'altra. Assolutamente. Si è annotato. Le parole. Cioè questa cosa delle parole che a me su cui continua a... Infatti io volevo partire con questa presentazione dicendo Ciao a tutti. Oppure car amic vicino a lontano. Questa cosa volevo farla poi non so. Questo libro purtroppo è precedente alla cosa meravigliosa che non so se qualcuno qui ha sentito. Adesso c'è questa... Non so neanche come chiamarla. Questo segno grafico che è lo schwa. Che dovrebbe servire a rendere neutre le parole. Ora come sapete tutti perché avete fatto le scuole dell'obbligo, spero perché sennò che obbligo è? L'italiano è una lingua romanza. Le lingue romanze hanno i generi. Non si può rendere neutro l'italiano molto banalmente. Cioè i sostantivi sono maschili o femminili, i participi sono maschili o femminili, gli aggettivi sono maschili o femminili. La schwa dovrebbe servire a dire non brutto e non brutta ma... Ecco c'è questo problema del suono. Allora Michela Murgia ha scritto un articolo con la schwa sull'espresso. Flavio Fratello che è una giornalista della Sete che ogni tanto fa la rassegna stampa di Radio Radicale ha fatto una lettura direi teatrale di questo articolo da cui io ho scoperto una cosa che non sapevo. Cioè che lo schwa è calabrese. Cioè quando tu parli come un calabrese stai usando bene lo schwa. Non so neanche se lo schwa o la schwa. Quindi dici andu. Andu. Guarda io vorrei fare un appendice con una trascrizione della lettura con un file. Si può fare con un file audio. Possiamo allegare il file audio. Però questa cosa delle parole è veramente... Io mi sono raccolto, mi sono ritrascritto, un po' come i tuoi elenchi, una serie di parole. Representation Matters, Identity Politics, Trigger Warning, Cancer Culture, Safe Space, Me Too, Virtue Signaling, Work, Misgendering, Hate Speech, Victim Blaming, Mansplaining, Body Positivity, Influencer, Poc, Bicoc. Queste sono alcune delle parole che ho estratto dal tuo libro. Voleva farci vedere che ha studiato inglese. Esattamente. No, che ho letto il libro soprattutto. Ma il... Che sei fluent. Non fluido, ma fluido. Non fluido, ma... Tu sollevi un tema che a me piace, che è interessante molto, che è il tema di questa neolingua che in qualche modo ci invade, che... Ma che poi oltretutto, essendo inglese, noi come sappiamo abbiamo dei problemi con l'inglese, cioè non abbiamo mai imparato a dire Jobs Act, e però più non sappiamo l'inglese, più usiamo parole in inglese. Io ieri ho letto questa cosa incredibile. La portavoce di Biden ha detto in conferenza stampa a un tizio che faceva una domanda sulla legge o sull'aborto in Texas, un tizio, un giornalista, che faceva una domanda sulla legge o sull'aborto in Texas, gli ha detto, naturalmente tu non sei mai stato incinto e quindi non sai di cosa stai parlando. Allora, questo è uno dei più deleteri casi di identity politics, per usare una delle parole che piacciono a lui, che ci siano, nel senso che l'idea che si possa scrivere, legiferare, ma l'idea che si possa qualunque verbo solo di ciò che si è vissuto, cioè che non conta quello che sai ma conta quello che sei, è una cosa che fra l'altro riassume benissimo una frase di Simone de Beauvoir che io cito, in cui diceva, per scrivere di corvi non occorre essere un corvo. Questa cosa qui è stata sintetizzata dalle pensatrici italiane in La portavoce di Biden spiega a un giornalista cos'è il mansplaining. Ora, a parte che mansplaining dovrebbe voler dire che io parlo e tu mi interrompi perché in quanto uomo sei prepotente, e questo vuol dire che non hai mai fatto conversazione con me, che sono sempre la più prepotente di qualunque conversazione, eppure giuro che non sono un uomo. Ma a parte questa idea che la donna sia comunque vittima, sia comunque debole, tutta questa cosa, ci sono un sacco di cose che non funzionano nell'identity politics, ma questa cosa che i gameti che hai o la razza di cui fai parte definiscano il tuo destino, è una cosa, oltre che pochissimo femminista, anche un po' demente, perché è una donna Angela Merkel e sono una donna io, è una donna Jennifer Lopez e sono una donna io, se ci vedete non sembriamo neanche della stessa specie, francamente. Cioè, di cosa stiamo parlando? Però sta diventando un problema serio, sta cominciando ad essere un problema... Eh, dovrebbe farci un libro qualcuno. Eh? Eh? Ho dato un'idea. No, è un problema serio, perché è un problema di comunicazione, è un problema di dialogo, cioè di incapacità poi di parlarsi, no? Cioè diventa un tema... Costruire soglie di questo tipo aumenta i gradi di conflittualità, ma senza che poi porti da nessuna parte, è come se ci si fermasse alla prima riga, non è che si entra nei contenuti, diventa una specie di elemento, un'arma che chiunque può usare in maniera anche... Ma io ho l'impressione che questa cosa non importa a nessuno, perché nessuno vuole parlare, nel senso, nel senso diciamo più ampio del termine, nessuno vuole discutere. Le persone vogliono ribadire quella cosa che tu prima dicevi, representation matters, gli americani dicono appartenere, cioè a che curva di stadio tu appartieni, di che club fai parte, di chi è schieramento sei. A me spessissimo dicono, sì, va bene, ho letto questa cosa, ma prima di dirti cosa ne penso, voglio capire tu come la pensi su. Perché a seconda di come ti schieri, io valuto la tua idea, non a seconda di com'è la tua idea, di come tu la esponi, di quanto tu mi stai convincere, ma delle mostrine che hai sulla giacca. È quella distinzione che tu sollevi benissimo su questo mondo diviso in buoni e cattivi, ingiusti e sbagliati, cioè del fatto da che... Addirittura? Ho detto buoni e cattivi, cioè Dio ci ha chiamato, attenzione, è una roba... Va bene. Il suo delirio di onnipotenza è ormai incontrollabile, io fossi voi, sarei molto attento. Non parlavo di me, parlavo delle... No, no, ma non parliamo di te, vai pure avanti. Adesso arrivano i signori con la camicia bianca. Esatto, è capitato spesso. Ma questa cosa è una chiesa? Anche, laica, molto laica. Le chiese moderne, ma si può? È legale? Sì, molto, molto. La nuova cattedrale, come si dice. Andate in pace. Eh? Non lo so, guarda, di solito, però è un momento alto questo. Ma poi è sempre più forte, è una mia impressione, sta aumentando di volume. Ma infatti, ma tra l'altro ti volevo parlare sull'incapacità di ascoltare, per cui... Per è perfetto. Io so il padre nostro in latino perché ho fatto le scuole dai preti, se volete ve lo posso dire, non lo so. La mia esperienza salesiana, devo dire. Non so, io andavo dai Bernabiti, come posso rendermi utile? No, sta, sta, siamo in un calano, siamo in un calano. È più forte quella, è una impressione. Non so, eh, come è andata la presentazione? Ma c'erano le campane. È celestiale, dai. C'è una presentazione celestiale. non so, eh, signor prete? No, sta scendendo, sta scendendo. Comunque. Dicevamo, non so più dove eravamo. Non anch'io, ma ritorniamo a un punto. A me, tu hai detto, tu dici nel libro, la gente preferisce sentire che ascoltare, no? E questa è un po', ritorniamo un po' a quello che dicevamo anche prima. Cioè, sentire nel senso di to feel. Sì, esatto. Provare, perché poi in italiano non ci sono le parole per dire queste stronzate, cioè l'italiano ha molti limiti, però ha anche il vantaggio che se tu dici to hear e to feel, cioè sentire, nello stesso modo, è difficile fare la distinzione, grazie signor prete, è difficile fare la distinzione su quanto sono importanti le mie emozioni, no? Perché non abbiamo la parola per dirlo. Sì, però questo vuol dire anche che siamo schiavi delle emozioni immediate e non abbiamo nessuna intenzione di andare a fondo. Ascoltare invece diventa una forma di attenzione verso l'altro. Ma le emozioni sono solo immediate? Ci sono emozioni non immediate? No, 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 questo dicevo, a me preoccupa questa incapacità che abbiamo di smettere l'ascolto, cioè di avere attenzione per chi abbiamo davanti in nome di quelle tribù di cui parlavamo prima, no? Cioè del fatto di dire bene, prima che ti dico cosa ne pensi, mi dici tu a che tribù appartieni così vediamo se siamo da questa parte? Sì, io poi quando diciamo, io per prima stiamo smettendo di io, stiamo diventando così, mi viene in mente un passaggio di Erbasino che in Paesaggi italiani con zombie diceva tutte queste cose stanno già in Balzac e in Tileron, peggio per voi se non li avete letti e quindi penso forse in realtà era sempre così ed è semplicemente che io questa gente non la vedevo perché non è gente che io frequento, cioè, dopo tutto con i social ti passa davanti un mondo che tu non avresti mai incrociato 15 anni fa. Sì, ma infatti è la scala che è saltata, hai perfettamente ragione, cioè, prima si parlava con le persone che erano prossime a te e che sceglievi, adesso tu apri il telefono e decidi che guardi queste cose e il mondo intero ti infrana nel telefono, ti entra dentro e quindi come se dovessi confrontarti con una moltitudine che prima non... A me piace molto perché io sono diciamo molto maleducata anche nella vita ma sui social è ancora peggio e quando chiudo i commenti di qualcosa che scrivo e non permetto ai passanti, agli estranei e agli sconosciuti di commentare è una... quasi... è percepita come una violazione di un diritto umano, no? Tu hai il diritto di rivolgermi la parola e io ho il dovere di risponderti, non si sa bene perché. Quando tu non lo permetti la prima cosa che ti dicono è Maria Antonietta. Credo che sia la cosa delle brioche, però la cosa interessante è che nell'uso fisso di Maria Antonietta c'è come una convinzione che il ricottavo invece fosse uno alla mano. Cioè l'unica sovrana stronza della storia è Maria Antonietta. Guarda a casa una donna. Ah! Beh, d'altra parte com'è che si chiama? L'ho visto prima, non lo sapevo, il potere delle donne. Ma cosa state dicendo? Ma non mi avevate avvisato. Veramente era per il fessore della politica. Poi il potere delle donne. Questa cosa del... È un ottimo momento per approfittarsene essendo donne. No, no, ma io non me la approfitto. No, no, per approfittarsene noi. Ah, sì, figura che. Questa cosa del parlarsi, questa cosa dell'incapacità, a me, come dire, credo che sia un tema importante. Cioè del fatto di ridurre tutto a tribù, a schieramenti, buoni e cattivi, come dire, ridurre tutto a quello che sento in questo momento e non avere nessuna voglia di costruire un dialogo vero, di permettersi di essere anche in contraddizione l'uno con l'altro, di discutere rispettandosi, no? È come se tutto questo fosse stato un po' cancellato. Ma poi soprattutto questa cosa di parlare solo con quelli che la pensano come te è di una noia mortale. Cioè non riesco a pensare a niente di più noioso di una conversazione con qualcuno che ti dice anch'io. Quelli che a metà frase ti dicono stavo proprio per dirti la stessa cosa. Oppure i miei preferiti quelli che ti dicono sai, questo è giallo e tu dici ma veramente a me sembra verde. È la cosa che ti stavo dicendo io. E non è un problema questo. Certo che è un problema. È un tema forte, è un tema come dire che sta attraversando la nostra vita sociale, sta attraversando la nostra società che porta all'appiattimento di qualsiasi cosa. Cioè come tu dici vengono cancellate le sfumature, vengono cancellate quelle che sono le differenze che poi fanno il senso della vita, il fatto di andare a fondo nelle cose, di cercare qualcosa di diverso, di avere un pensiero o altro. Tutto questo sembra non più considerato. A me questa cosa preoccupa. Però d'altra parte quando tu affidi la comunicazione politica per dirne una, a una piattaforma in cui il massimo del pensiero articolato che puoi esprimere sono 280 lettere e spazi compresi. Che cosa ti aspetti? Sì, si parli di Twitter, sì, sì, è vero. Sì, parlo di Twitter perché è il social dei politici, diciamo, mi pare difficile fare la critica della ragion pura in 280 caratteri. No, sto ragionando rispetto al fatto che vorrei evitare di cadere nel moralismo alle macchine, ai social, perché poi c'è questa cosa che... Beh, però i social li hanno progettati degli esseri umani e li hanno progettati io credo come pensavano funzionassero meglio per gli esseri umani e quindi come li avrebbero fatti guadagnare di più nel momento in cui tu riduci il dibattito a like o dislike. C'è un'ulteriore riduzione del... Mentre in realtà potenzialmente uno strumento... Poi scusami, è anche vero che come dice sempre Natalia Aspesi, Facebook è una cosa che uno guarda al cesso. Quindi non è che proprio dobbiamo attribuire tutta questa intenzione a chi ti dice a stronzo punto esclamativo nei commenti di Facebook. Cioè, aveva quel tempo lì di scrivere due parole e la scritta e adesso è tornato a fare i fatti suoi. Però in questo periodo è come se passessimo tutta la vita al cesso praticamente. passiamo molto tempo al cesso c'è un grave problema di dissenteria diffusa. C'è proprio un tema di cessi occupatissimi ovunque file fuori pazzesche. Cioè, questa cosa che la nostra vita sociale è diventata un cesso in cui noi passiamo tutto il tempo a guardare quello che succede è abbastanza preoccupante. E' anche molto riposante perché non ti devi tirare a lucido pettinare vestire da sera puoi avere una discussione dal cesso di casa tua. Discussione. Discussione è una parola novecentesca. E però voglio dire se la discussione è una parola novecentesca se le sfumature come dire non sono più rilevanti se gli approfondimenti non sono più richiesti. Però poi oltretutto adesso io sto riducendo tutto a social ma non è che non lo so i dibattiti televisivi invece siano hanno messo su Raiplay Pickwick il programma di libri che faceva Baricco mi pare nel 94 una cosa del genere. Oggi è una roba che andrebbe forse sul satellite a luna di notte. Ah beh sì in quanto tempi di consumo c'è l'approfondimento le cose. No nel senso che Baricco è Baricco non è che lo dobbiamo non è che lo devo lodare io Baricco è un incantatore di serpenti lo metti lì e la gente lo sta a sentire io per prima mi metto nella gente. Dopodiché se oggi uno anche belloccio come Baricco peraltro all'epoca non established per fare quelli che usano le parole inglesi come oggi ma quasi debuttante e dico a un capo struttura Rai sai vorrei fare questo programma in cui per dieci minuti decostruisco una frase di Proust chiamano la polizia la buon costume i vigili urbani non ti vedo convinto ti vedo che stai per proporre alla Rai di decostruire una frase di Proust esatto esattamente no no pensavo a questa cosa era proprio dei tempi proprio cioè del di fatto però noi ci ricordiamo ancora di Piquic io mi chiedo senta signor Prete adesso io ho capito però lei sta esagerando io mi chiedo che cosa manderei in onda fra vent'anni te che te perché la televisione non manda più niente di archiviabile non manda non crea più niente di archiviabile no? sì o archivia in tempo reale per accumulo per cui puoi anche dimenticartene teoricamente c'è tutto sì però quando tu vedi appunto Piquic ma anche avanzi ma anche roba di questo secolo come il Pippo Kennedy Show io non vedo della roba oggi che penso un trentenne di oggi se la rivede fra vent'anni ride non penso a me perché io sono già decrepita e non introietto più il presente diciamo consumo solo ciò che già mi fa nostalgia però io sono contenta di aver avuto venti o trent'anni quando c'erano Baricco e Corrado Guzzanti cioè mi sembra meglio che averceli con più Amedeo e Fedez francamente questo non c'è dubbio figurati di andare addirittura al festival del libro cuore di cuore della rivista di cuore in mezzo alla pianura padana tu non battevi chiodo al liceo zero zero assolutamente ma lo so però sono come il Barolo nel tempo un pochino migliore ma infatti guarda datti tempo ho speranza ancora vent'anni davanti no però poi il cuore tra l'altro lo citi perché poi la cosa interessante è che in questo tuo accumulo passi parti dagli anni ottanta novanta dicendo chissà se mostrando queste cose che allora sembravano quasi eretiche tremende oggi o fanno ridere o non sarebbero state neanche possibili perché poi c'è anche questo tema che a me colpisce molto lo vedo in arte in letteratura in altri ambienti in questa forma dell'autocensura per cui per evitare di passare una giornata tra i cattivi ed essere coperto di merda da tutti i soci per una cosa che dici una cosa fondamentale è il diritto a non avere rotti i coglioni nel senso che se io scrivo una cosa e so che devo passare due giorni a smistare gente che mi dice fascista sciovinista maschilista coprofaga non lo so ognuno si inventi l'insulto che preferisce forse dipende cioè tipo se devo scrivere un libro e non mi va lo faccio perché niente è più potente come dover consegnare qualcosa per disincentivarti al lavoro e quindi mandarti sui social ma se davvero invece devo fare qualcosa che devo fare per forza non hai tempo di starci dietro perché poi si creano dei tamponamenti a catena sui social che sono impegnativi dal punto di vista del tempo per alcuni sono molto impegnativi anche emotivamente io mi ci diverto abbastanza però vedo gente che li soffre molto cioè succede sì sì e poi in genere ti dicono ma io non capisco come sia potuto succedere e tu dici ma succede tutti i giorni cioè te ne parlo da anni è una mia ossessione eh no ma non così come è successo a me no perché per te le cose esistono solo quando accadono a te certo 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 volevo dire una cosa su Cuore che citavi prima Cuore aveva non so chi di voi se la ricorda aveva una classifica delle cose per cui vale la pena vivere che fra l'altro era prodotta come i social dalla massa cioè le persone mandavano il loro voto i voti venivano selezionati dalla redazione e veniva fatta questa classifica ai primi posti di questa classifica dall'inizio alla fine questa cosa è durata credo due anni all'inizio alla fine di questa classifica c'è sempre stato la figa proprio scritto così la figa come diceva Guccini metonimi erranti e la fine di Andreotti intesa adesso uno può dire la fine della carriera politica ma sappiamo tutti che era la morte allora pensate oggi che i politici appena uno gli fa buh su un social per tre giorni ti fanno i discorsi sull'hate speech sul fatto che loro sono vittime dell'odio online che bisogna fare le leggi sull'odio online tu te lo vedi Andreotti contentissimo che va a Domenica Inn o cos'altro c'era allora e dice io sono vittima di hate speech perché cuore dice che vuoi la mia fine secondo me Andreotti tutta la settimana siamo sicuri di preferire adesso? mai nella vita ma secondo me Andreotti tutta la settimana andava a vedere se era ancora lì beh ovvio Andreotti era quello che si faceva dare gli originali delle vignette che lo prendevano per il culo adesso abbiamo la sardina che fa uno status che io riporto in parte perché la mia gente quando ha visto la prima stessura del libro mi ha detto ma tu sei sicura di voler dare tutto sto spazio alla sardina erano tipo quattro pagine fa uno status su facebook di non so duecento righe spiegando questa vignetta mi ha fatto male come Mattia mi ha fatto male come uomo era una vignetta di un innocuo imbarazzante ovviamente era una vignetta brutta perché le vignette belle ormai le fa solo Altan però comunque non è che possiamo fare una cosa qualitativa anche perché la qualità è soggettiva spesso quindi non è che dici sai tu siccome sei Altan puoi dire qualunque cosa e gli altri invece si devono censurare se esiste la libertà d'espressione deve esistere per tutti la libertà d'espressione o è assolutista o non esiste sì la sardina era sensibile la sardina è molto sensibile specie se la metti sul burro salato vero buono questa cosa del limite della libertà di espressione però diventa un tema serio perché poi dopo a volte dire va sulla vita delle persone e le distrugge spesso su questo adesso noi giochiamo ironizziamo però dopo poi si è applicato a situazioni in Italia credo che sia ancora una cosa abbastanza moderata anche perché ci sono due questioni una è che da noi la libertà d'espressione non è valutata quanto è valutata dagli americani che ce l'hanno in costituzione noi già il fatto che abbiamo la legge a scelba vuol dire che la libertà d'espressione non c'è nel senso se tu mi dici tu puoi dire tutto quello che vuoi tranne quello già non è più libertà d'espressione e l'altra cosa è che però siamo meno fanatici perché non siamo puritani eccetera eccetera abbiamo un'antichia ancora di senso del ridicolo e quindi licenziare il professore perché il professore ha detto una cosa che la studentessa ha trovato offensiva del suo credo religioso o del suo genere sessuale o del suo hobby di giocatrice di scacchi non è una cosa che facciamo credo ancora poi sai a furia di emulare magari ci arriviamo non lo so ed è la cosa che tu giustamente sollevi il fatto che l'America sembrava così lontana dall'altra parte della luna diceva il poeta invece ce la diamo in casa comincia ad essere un po' troppo prossima anche negli atteggiamenti anche solo per emulazione perché cominciamo a volte come dei fessi a pensare di essere come i studenti di Harvard o di un'altra università americana che fanno che protestano perché è un discorso perché una cosa era scritta sbagliata perché offendeva la minoranza perché questa cosa in realtà sta montando sta crescendo per cui riduce sta crescendo e questo sta crescendo oltretutto rispetto a quando è uscito il libro sta crescendo molto nei giornali ci sono un sacco di giornali un sacco no ma insomma alcuni notevoli giornalisti uno dei quali è anche abbastanza citato nel libro Andrew Sullivan che hanno lasciato grandi testate Andrew Sullivan ha lasciato il New York Magazine Barry Weiss ha lasciato il New York Times e si sono messi su Substack che è questa piattaforma di newsletter dove se tu sei una grande firma americana puoi cavartela egregiamente perché scrivi in una lingua che è letta e capita in tutto il mondo gli americani sono abituati a pagare gli americani sono abituati a pagare per tutto sono abituati a pagare per leggere sono abituati a pagare per sentire parlare la gente anzi dopo facciamo passare il prete a raccogliere le donazioni e quindi questi si fanno il loro Substack a 50 dollari all'anno e Andrew Sullivan ha comunicato di recente che lui adesso ha abbonati mi pare per un milione e otto all'anno una cosa così e quindi insomma direi che uno stipendio lo porti a casa ecco se sai scrivere in America e però la ragione per cui questi sono usciti da delle redazioni che bene o male comunque ti danno un prestigio perché essere un editorialista del New York Times è essere un editorialista del New York Times è che sono diventati posti invivibili per chi è un po' laterale non è neanche per chi è dall'altra parte questa è la cosa tu prima dicevi le sfumature non è che dice sai tu sei Trump e non ti vogliono su New York Times perché è un giornale liberal che parla ai lettori di sinistra ma se tu sei Barry Weiss cioè sei come posso dire una liberal letterodossa sei una che dice sì però aspettate un attimo secondo me non è che proprio tutti gli uomini sono stupratori per dire uno dei temi affrontati da queste questioni a un certo punto rendono la tua vita un tale inferno che tu pigli e ti licenzi piuttosto che sì sì no certo piuttosto che come dire censurarti o ridurre la tua scrittura a qualcosa di così politicamente corretto ad essere assolutamente inguardabile trovi un altro spazio questo vuol dire che la rete in fondo ha questa capacità di produrre dei luoghi alternativi a questo sì ma fra l'altro una cosa interessante dell'uscita di Barry Weiss da New York Times è che lei non abbia raccontato i dettagli non so se intende a fargli causa e quindi non ne abbia ancora parlato se voglia scrivere un'autobiografia non lo so però ha fatto capire che uno degli elementi che l'hanno spinta fuori è che loro hanno questa chat interna dei giornalisti del New York Times in cui lei veniva bullizzata in modi terribili dicevano cose orrende di lei sapendo che lei leggeva che alla fine è una specie di social minore no? assolutamente cioè alla fine tutto anche le cose che non sono social prendono quei meccanismi lì certo certo sì una volta per sapere che i tuoi colleghi ti odiavano dovevi origliare dietro la porta del bagno no? adesso basta stare nella chat sbagliata adesso se sei nella chat è finita è finita ma infatti una delle mie domande rispetto a quello che hai scritto è se tutto questo è così sottoposto a una violenza per cui tu smetti di volere esprimerti no? quali sono gli spazi veri di sperimentazione perché poi questa è una cosa che a me preoccupa è una cosa che secondo me è significativamente seria secondo me non ci sono guarda ti dico una cosa che è minore però che secondo me è significativa io faccio pochissime interviste però quelle che come intervistatrice quelle che faccio non sono neanche lontanamente somiglianti alle interviste che tu potevi fare dieci anni fa perché la gente è terrorizzata di dire mezza parola faccio un esempio cinque o sei anni fa io ho fatto un'intervista a un cantante che a un certo punto mi ha detto che lui non riusciva a guardare Madonna sul palcoscenico perché Madonna gli metteva l'angoscia di chi vuole essere fertile per sempre di chi usa il suo corpo come se il suo corpo fosse immortale come se non fosse possibile un declino fisico eccetera 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 io quando ho scritto questa cosa gli ho mandato questo pezzo e ho detto secondo me con questa cosa ti linciano siamo sicuri di volerla far uscire che è una di quelle cose che se fossimo su Twitter adesso mi direbbero quindi tu non sei con la schiena dritta tu non gli hai fatto leggere la sua risposta e ti sei messa d'accordo ma siccome siamo qui ve la dico lui mi ha detto ma sì in effetti forse e alla fine abbiamo concordato di aggiungere una seconda domanda in cui io gli dicevo praticamente stai dicendo che le donne vanno buttate nell'umido e lui diceva no non intendo questo io dico riguarda anche me eccetera eccetera io di recente ho traslocato e buttando giornali vecchi ho trovato questa intervista e così come è uscita emendata corretta e diplomaticizzata oggi se lo mangerebbero vivo anche nella versione ripulita quindi è proprio scesa la soglia delle cose interessanti che tu puoi riuscire a dire anche perché in un in un ambiente così sterilizzato appena tu dici mezza cosa sei subito il bastian contrario il provocatore non so dimmi degli altri sinonimi cioè diventi immediatamente quello che diventi immediatamente Vittorio Sgarbi in televisione quello che la spara grossa per mestiere mentre in realtà magari hai detto una cosa normalissima che semplicemente risalta perché nessuno dice più niente cioè se voi leggete i giornali nessuno dice niente quelli ovviamente diciamo che non che non la dicono grossa per mestiere tipo i politici eccetera ma quelli che hanno qualcosa da vendere sono terrorizzati che siano stilisti che siano cantanti che siano attori ora a me non frega granché perché se non leggo mai più belle interviste è pazienza però il problema è che questa è gente che poi fa cose con le proprie parole che poi fa cataloghi fa mostre fa canzoni fa romanzi e vivono nel terrore di essere fraintesi ma il punto che arrivi a vedere musei che tolgono dei nudi considerati come dire accessibili stupendo tipo lo scile che viene coperto delle cose ci arriviamo come dire alla nuova inquisizione come certo punto tu dici ci arriviamo a una forma di da una parte io ho capito che eravamo messi molto male un paio d'anni fa quando Franzen ha detto a un intervistatore che lui non riuscì più a guardare i quadri di Caravaggio da quando aveva saputo che era un assassino veramente nel senso che le ragazze che fanno le varie baltus dal museo e sono tutti esempi veri non sto inventando mi fanno meno impressione perché sono due disgraziate diciamo vittime di questo lavaggio del cervello collettivo oppure sono due che vogliono finire sul giornale e sanno che così ci finiscono ma Franzen insomma due neuroni funzionanti dovrebbe averli perché ha detto questa cosa cioè perché tu pensi che di quell'intervista lui credesse veramente a questa cosa cioè perché ha usato questa cosa guarda quello che ti posso dire è che quasi tutti gli americani che conosco che lavorano nel mondo dell'ostacolo nella cultura ti dicono seriamente c'è alcuna ironia ci credo veramente che non riescono più a guardare i film di Woody Allen non ci posso credere e tu dici ma scusa a parte che non è vero niente ci sono stati dei processi è stato assolto Mia Faro è una pazza mitomane adesso ovviamente questa clip di me che dico Mia Faro è una pazza mitomane assolutamente mi rientrerà il mio linciaggio ma va bene andiamo pure avanti ma a parte tutto ma se anche fosse vero per esempio Polansky è stato condannato tu non guardi più i film di Polansky perché se tu guardi i film di Polansky pensi è però il regista è stato a me francamente non viene in mente a parte che della maggior parte dei film che guardo non so niente delle vite dei registi per fortuna ma anche se lo sapessi cioè non mi viene in mente che Hitchcock metteva le mani sul culo a Grace Kelly quando guardo Caccia al ladro tu sai che Klimt stava sempre con questa tunica vuo lunghissima e sotto stava nudo perché appena avevo un attimo di come dire di ispirazione poetica la modella di turno diventava parte del suo mi fermo insomma poi dopo mi diciamo autocensura secondo me Franz non ti dà un'intervista te lo dico no non mi dà un'intervista no non credo proprio ma non gliela chiederò neanche no ma per dire che la china che sta prendendo tutto questo è veramente drammatica perché non solo perché dall'America arriva a noi ma perché poi dopo attraverso le nuove generazioni diventa un modo di pensare diventa una forma di di censura collettiva che sterilizza ogni pensiero critico ogni modo di di stare al mondo che non sia allineato perfetto uguale in un mercato in cui siamo tutti felici senzienti e senza alcun pensiero critico no guarda la mia unica speranza è che imploda dall'interno perché sto iniziando a vedere siccome ovviamente quando tu frammenti così tanto l'identità è difficilissimo che l'identità combaci nel senso che se io sono nero e però tu sei nero e trans però quell'altro è nero e trans e obeso abbiamo diciamo percentuali di diritto ai punti fragola della lamentela diversi questa cosa qui sta causando sempre più spesso sto notando io tengo d'occhio un sacco di account Instagram di queste che per mestiere fanno i cancelletti di protesta sui social e pensano così di fare la militanza politica sempre più spesso vedo dire è però non bisogna aggredire chi non la pensa come noi perché magari la loro amica ha detto la cosa sbagliata il giorno prima no perché è sempre finché sono gli altri linciamoli ma quando è mia cugina è un problema e quindi io spero che sia così che si depotenzia la cosa che a un certo punto inizino anche loro a dire no però ragazzi anche un po' meno sì anche perché forse è un po' di finire loro il giorno dopo in graticola beh è così questo è un meccanismo fondamentale cioè tutti quelli che fanno la caccia al cretino del giorno sono stati il cretino del giorno o diventeranno il giorno dopo perché comunque c'è una foga in te di non essere di nuovo il cretino del giorno perché hai visto quanto tempo ci hai perso quanta emotività ci hai buttato che sai che se io oggi lincio lui oggi tutti guardano lui nessuno guarda dalla mia parte quindi io posso farmi la mia giornata tranquilla è barabba cioè è assolutamente barabba barabba ma il problema di barabba barabba non è tanto che quelli lo volevano crocifiggere il problema di barabba barabba è che hai chiesto l'opinione a quelli ma perché gliela chiedi un altro un altro exit poll diciamo tanto che hanno cominciato i 5 stelle ma hanno cominciato i microfoni aperti di radio radicale sì è vero è vero Pilato ha fatto un sondaggio fondamentalmente un referendum ma nel primo capitolo tu parli della morte del contesto che io trovo come dire parte di tutto di questo fresco che fai da cui partire cioè quindi tu spieghi tutto partendo dalla morte del contesto vuoi spiegarci cosa vuol dire la morte del contesto perché secondo me è importante perché è la premessa un po' a quello che ci stiamo raccontando beh la morte del contesto in realtà è un altro frutto della frammentazione nel senso che se io vedo te che parli con lui su Facebook mi illudo di sapere tutto di voi da quel frammento di voi che ho visto su Facebook che ne so io se poi voi fuori da lì siete migliori amici colleghi non posso che interpretare male quello che vi dite perché non conosco i vostri codici certo e questa cosa non so perché i social hanno deciso che non è un problema cioè quando io parlo con una mia amica e ci facciamo una battutaccia pubblicamente loro ti dicono ma tu sei in pubblico cosa vuoi ma io anche al bar sono in pubblico ma tu non andresti mai al bar a dire a uno come ti permetti di averle detto stronza e di difendere guardi si difende da sola il nostro nomignolo cioè il nostro gergo si faccia i fatti suoi cioè uno chiama gli infermieri dell'ospedale psichiatrico se qualcuno al bar gli dice come deve parlare con i suoi amici sui social è normale questa cosa del contesto l'esempio che apre il libro è una volta in cui io misi era morta Vierna Lisi e io misi una scena di Sapore di Mare in cui Vierna Lisi all'epoca splendida quarantenne dice a Isabella Ferrari che aveva credo 18 anni o qualcosa del genere la verità è che invecchiare fa schifo l'ultima scena e io sotto questo vecchio video questo vecchio frammento cinematografico scrissi la verità è che invecchiare fa schifo siccome i social funzionano sempre perché vengono consultati dal gabinetto a risparmio dell'impegno nessuno fa la fatica di cliccare su un filmato cioè adesso anche io quante pretese che ho e quindi nessuno sapeva cos'era quella scena e io diventai una che aveva detto a cadavere caldo di Virna Lisi Virna Lisi è vecchia e fa schifo ora a parte che la Lisi in quella scena è di una bellezza che bisogna essere sordo ciechi per pensare che le si possa dare della vecchia schifosa cioè non è una roba strepitosa bellissima ma al di là di questo il punto non è tanto la distrazione con cui tu scorri Facebook vedi la verità che vecchia fa schifo e dici ammazza che caffona questa il punto è che il tempo che tu non hai investito per guardare quel minuto di film lo investi per venirmi a rompere i coglioni dicendomi che io sono maleducata però allora o non ce l'hai il tempo o ce l'hai se ce l'hai usalo per informarti sulle cose che commenti studia che è anche una parola grossa per dire guarda un minuto di vanzina diciamo però era un vanzina d'autore era un vanzinologo no io sono una grande vanzinologa senti invece nella parte finale del tuo libro te la prendi con Diana c'è un capitolo Diana che anche tra l'altro ma mai quanto lei se l'è presa con noi sì è vero però la usi come testimonia diciamo dall'inizio di un'era sì è l'origine di tutti i mali sai che mi ricordo ancora quando è morta stavo camminando con mio fratello Rubino e mi dice è morta Diana c'è stato un attimo si è fermata l'aria e ce l'ha smesso di volare è stato un momento drammatico beh un momento drammatico che poi è durato un sacco io mi ricordo che i giornalisti scrivevano che l'Inghilterra era cambiata perché il funerale di Diana fu un tale stiamo parlando del 1997 fu un tale sfoggio di pathos per un paese che era sempre stato raccontato come il paese Algido Stifa Perlip eccetera in realtà era cambiato il mondo nel senso che l'Inghilterra come tutti quanti era diventata emotiva come è diventato tutto il mondo forse persino i tedeschi è che parliamo male il tedesco e quindi ce ne accorgiamo meno però l'aveva impersonificato consapevolmente lei aveva costruito il personaggio come dire lei è stata bravissima lei è stata bravissima e potrei dire questa cosa per farmi filmare mettere sull'internet e linciare ha avuto la furbizia di morire giovane nel senso che ovviamente lei non avrebbe voluto morire ovviamente sarebbe meglio questa si chiama premessite questa cosa premesso che premesso che mi dispiace che Diana sia morta lasciando orfani sui bambini premesso che Diana avrebbe dovuto invecchiare Serena premesso che nessuno dovrebbe morire negli incidenti d'auto premesso che le cinture di sicurezza sono una cosa importante questo è un altro elenco di Guido Soncini resta il fatto che se lei aveva lei era del 61 quindi aveva 36 anni compiuti da poco perché lei era di luglio credo se muori splendida 36enne oltretutto al picco della tua fama perché quella era stata l'estate che lei aveva trascorso con questo suo nuovo amore che oltre ad essere un arabo quindi musulmano quindi scandali bla 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 era la famiglia proprietaria di Harrods il più importante grande magazzino londinese quindi diciamo gli inglesi sapevano tutti chi era questo qui lei era tutti i giorni sui tabloid a parte che era tutti i giorni sui tabloid da anni però di quelle state lì se tu metti davanti a un alieno le foto di quell'estate senza dirgli di che anno sono l'alieno non crederà mai che non ci fosse Instagram perché nessuno è mai stato così tanto fotografato in un'estate sola prima di Instagram adesso tutti siamo fotografati quanto Diana nel 97 ma all'epoca non era normale tra l'altro incidente nella corsa rincorse dai giornalisti che sulle moto volevano firmarla io ero sveglia perché avevo 24 anni e quindi facevo tardi la sera e in quegli anni Telemonte Carlo aveva un accordo Telemonte Carlo è quella che adesso è la 7 aveva un accordo con la CNN per cui da una certa ora in poi mandava il segnale della CNN io tornai a casa a tarda notte accesi la televisione e c'era Larry King che è un signore che ha fatto interviste sulla CNN per un sacco di anni che aveva ospite Steven Seagal quello che ha fai fin d'azione l'attore che fai fin d'azione sempre col taglio di capelli perfetto ogni volta che Steven Seagal soprattutto sempre più lampadato di Carlo Conti una cosa e io accendo e stanno parlando delle colpe dei paparazzi e fanno vanno avanti con questo discorso per dieci minuti io non capisco di cosa parlino un po' perché ho 24 anni e il mio inglese è quello che è ma anche perché mi mancava la notizia poi Larry King chiude il programma dicendo allora ricordiamo la notizia c'è stato un incidente Dodi Al-Fayed è morto Diana è in ospedale perché all'inizio diedero per morto solo lui e Diana è in ospedale ed era una cosa pazzesca cioè era una cosa dirompente per chi era consumatore di cultura popolare in quegli anni perché lei era il personaggio cioè non c'era forse non ci sarà mai più un personaggio globale come lei perché adesso appunto è tutto molto più frammentato e poi soprattutto perché ogni celebrità è il tabloide di se stessa avendo Instagram lei invece usava i tabloidi lei era la più clamorosa utilizzatrice è uscito questo documentario qualche anno fa con i nastri delle sue conversazioni lei cosa fece era ancora sposata con Carlo e voleva che uscisse questa biografia di Andrew Morton Andrew Morton è un biografo noto per fare biografie non autorizzate ma in realtà con la collaborazione del non autorizzante ha fatto anche la biografia di Monica Lewinsky per dirne una negli anni caldi che poi sono gli stessi perché mi sa che era tipo il 98 e lei registrava dei nastri in cui raccontava tutti gli affari della casa reale come erano cattivi con lei come non erano affettuosi con lei che geli da famiglia e glieli faceva avere e con questi nastri poi hanno fatto un paio di anni fa un documentario in cui a parte lei ha questa voce ipnotica proprio da manipolatrice sembra un po' Kyle il serpente del libro della giungla cioè Meghan è una dilettante praticamente Meghan è una pallida emulazione infatti la vera grande sintesi della nostra epoca è che Meghan Markle è la Diana che ci possiamo permettere sì è vero è verissimo è verissimo è verissimo per chiudere rassicurami perché tu chiudi dicendo siamo a posto ti dici tu pericolo di nuova inquisizione di neomaccartismo cioè questa cosa di questo grande fratello che anche non è un grande fratello ma del fatto che questa forma continua di autocensura provocherà delle forme di censura quasi più pubbliche più istituzionali qualcosa che addirittura prenderà il posto delle nostre autocoscienze censuranti ma che poi diventa un modo di un po' anche buio a mezzogiorno io non ce l'ho messo però o forse ce l'ho messo non mi ricordo più niente io di sto libro il libro finisce su McCarty e Torquemada esattamente ed è giustamente è un sollecito è una sollezione importante ma tu pensi che rispetto a questo non è che mi devi necessariamente rassicurare però pensi che sia qualcosa di concreto che qualcosa che in qualche modo entrerà pesantemente condizionare ulteriormente le nostre vite o diventare invece una cosa ancora più sottile cioè il mercato stesso ti regola e tu non te ne accorgi neanche quindi diventa una forma di inquisizione totalmente silenziosa ma molto più presente guarda il mio auspicio non ti so fare una previsione il mio auspicio sarebbe che diventassimo tutti un po' come Fiorello cioè che decidessimo che ce ne fottiamo del rumore di fondo che se facciamo una cioè Fiorello tipo due anni fa a Sanremo ha fatto una battuta sul puttantur io quando l'ha fatta ho detto ma adesso se lo mangiano vivo e sì un po' se lo sono anche mangiato vivo però visto che lui se ne fotte davvero e quindi minimamente alimenta non si è scusato perché poi è una cosa che nessuno capisce mai e che non bisogna scusare ti posso raccontare una cosa? il primo linciaggio dell'internet è avvenuto nel 2013 ed è andata così c'era una ragazza che si chiamava si chiama ancora Giustin Sacco Giustin Sacco era una ragazza che lavorava in un'agenzia di PR di New York di origine sudafricana a Natale va in Sudafrica mentre si imbarca sul volo fa questo tweet sto andando in Africa spero di non prendere l'AIDS ah no sono bianca poi spegne il telefono sugli aerei all'epoca non c'era il wifi e si imbarca per 13 ore o quante sono di volo nel frattempo viene giù il cielo perché cosa era successo? che un giornalista di Gawker che era una testata pettegola che esisteva allora vede questo tweet e fa il primo barabba barabba della storia cioè lo rilancia lei aveva pochissimi follower non se ne sarebbe accorto nessuno lo rilancia dicendo ma guardate questa cosa scrive è una vergogna che si è impiegata presso la ditta tal dei tali la dovrebbero licenziare non so se dica esattamente la dovrebbero licenziare però insomma quando lei atterra non solo non ha più si accorge di non avere più lavoro ma si accorge di essere in tendenza trending topic su Twitter con il cancelletto licenziate giusti in sacco questa storia non te la sto raccontando per giusti in sacco te la sto raccontando per lui che come tutti quelli che vanno a caccia del cretino del giorno diverrà il cretino del giorno perché cosa succede che sei mesi dopo lui fa a sua volta una battutaccia su Twitter parentesi tutti quelli che difendono giusti in sacco negli articoli degli ultimi anni o nei libri lo fanno dicendo certo lei aveva fatto un'inaccettabile battuta razzista però ha pagato un prezzo troppo alto ma quella non è una battuta razzista è una battuta sul razzismo cioè questa qui potrà morire fra cent'anni e comunque sulla tua tomba ci sarà scritto aveva fatto una battuta razzista perché noi abbiamo deciso di inquadrarla così chiusa parentesi passano sei mesi e il tizio fa a sua volta una battutaccia e a sua volta qualcuno chiede la sua testa a sua volta viene linciato e come accade a molti ha una reazione molto emotiva a questa cosa e cosa pensa di fare? di andare a chiedere a giusti in sacco cosa deve fare è geniale quindi lui poi ci ha scritto un articolo io questo lo so perché lui ci ha scritto un articolo non perché li ho origliati e giusti in sacco gli dice questa frase che secondo me andrebbe scolpita all'entrata cioè prima di permetterti di aprire un account social invece di dare i documenti come chiedono ogni tanto dovrebbero farti mandare a memoria questa frase la frase di giusti in sacco è non fare niente non twittare non rispondere sii un inerte grumo di molecole mentre il mondo attorno a te cade a pezzi perché è l'unico modo perché come dicevamo all'inizio fra 36 ore non se lo ricorda nessuno quindi Fiorello che sa questa cosa è ogni volta un inerte grumo di molecole e ogni volta la passa liscia quindi la mia speranza è che diventiamo tutti inerti grumi di molecole grazie e viva grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti